Ciao, sono Alessandra Leone a Master Crystal Nails ed oggi ti do il benvenuto nella sezione preparatori del catalogo Crystal Nails. In ordine, Spray Prep, Nail Prep, Primer, Primer Acid Free e No Buffer Scrub. Parliamo di Spray Prep, in confezione da 100 ml o da 500 ml, è il primo preparatore che andremo ad applicare, utile per disinfettare e di idratare la pelle e la lamina. Subito dopo, Nail Prep, formula concentrata di Spray Prep specifico per la lamina, ne mantiene tutte le caratteristiche, di idratante, disinfettante, stabilizza il pH, può toccare la pelle. Primer in boccetta o un pennina è un primer contenente acido metacrilato che ha un'asciugatura all'aria di un minuto. Primer Acid Free è il mediatore di aderenza che permette l'adesione prodotto lamina. Vediamo nello specifico l'applicazione. Dopo aver effettuato la manicure e aver opacizzato correttamente la lamina, erogare Spray Prep sulla mano e sulla pelle della cliente. Con questo prodotto si riuscirà già a capire attraverso la reazione della pelle e della lamina il grado di porosità di quest'unghia. L'asciugatura sarà istantanea e subito dopo la lamina apparirà disidratata. Subito dopo applicheremo Nail Prep che contribuirà a rendere la lamina deidratata e disinfettata, stabilizzerà il pH e perché no, aiuterà ad eliminare la polvere che a volte resta incastrata nei valli. Anche lui ha un'asciugatura istantanea, possiamo quindi procedere con il prossimo preparatore. Utilizzerò la versione pennina del primer che è ricaricabile, mi aiuterà nell'applicazione, grazie alla punta sono così sicura di non toccare la pelle. Questo perché? Perché il primer contiene acido metacrilato, utile per aumentare la porosità della lamina e prepararla a fondo, ma non può toccare la pelle. Ha un'asciugatura di un minuto all'aria che si può ridurre con un aspiratore o una ventola della lampada accesa. È importante che asciughi perfettamente prima di applicare il preparatore successivo. Primer Acid Free Ultimo preparatore, ma non meno importante per quanto riguarda gel, acrigel e acrilico. Ne va applicato uno strato sottilissimo, rilascia una superficie appiccicosa che ci consente il completo aggancio con il prodotto successivo. Non ha bisogno di asciugare, la superficie resterà lucida, da qui si può precedere subito con il trattamento. Per quanto riguarda il mondo del semipermanente tradizionale, invece, abbiamo No Buffer Scrub, un preparatore che insieme al Nail Prep permette la corretta preparazione della lamina. La prima parte della preparazione resta uguale. Dopo aver effettuato la manicure e aver opacizzato la lamina con il buffer a rimarosa, si procede a derogare Spray Prep. Una volta evaporato, si procede con l'applicazione di Nail Prep su tutta la lamina, che avrà il compito, come sempre, di deidratare, disinfettare, stabilizzare il pH. Dopo la sua istantanea asciugatura, come ultimo preparatore, si applica invece No Buffer Scrub, che contiene solo una minima percentuale di primer. Questo garantirà tenuta e resistenza, ma permetterà nell'appuntamento successivo la completa assolubilità del materiale nei tempi giusti. È importante applicare il prodotto strofinando sulla superficie della lamina con un pad, nei bordi e soprattutto frontalmente dove è possibile, anche nella parte inferiore. Questi e tutti gli altri prodotti Crystal Nails puoi trovarli sul sito www.crystallnails.it o all'interno di tutti i rivenditori e accademie Crystal Nails in Italia. Ti aspettiamo! Grazie! Grazie!